ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video siamo qui per le probabili formazioni di udinese juventus di giovedì sera allora non mi aspetto grandissime variazioni da parte di mister sarri per quanto riguarda l'undici titolare e cambia che torna bernardeschi e secondo me bernardeschi sarà titolare vedete federico bernardeschi sarà titolare ho il dubbio tra iguain e di bala perché sema iguain si recupera giocare a iguain ma non so se recupera intanto qua bentancur in questa zona qua non ci sta proprio e credo che sia questa la formazione insomma quindi con scelta in porta alexandro delict ecco questo è il cambio secondo me che ci sarà fuori bonucci e dentro rugani semplicemente perché credo che bonucci stia facendo vedere dei problemi acciacchi fisici e abbia bisogno di un turno di riposo e somma se rugani che ha una riserva ma prende 3 milioni non lo fa giocare neanche con l'udinese insomma qualche dubbio c'è quindi alexandro delict e rugani quadrado matri di bentancur e rabbio secondo me questo sarà il centrocampo che vedremo giovedì e poi l'attacco classico bernardeschi di bala punta e ronaldo credo che sia questa la formazione mi aspetto ovviamente a partite in corso da glas costa che con la lazio come ho detto mille volte non ha inciso quasi nulla dall'inizio in più mi aspetto gonzalo iguain a un certo punto al posto della hoia di bala insomma credo che sia una staffetta non escludo anche il contrario che possa giocare iguain e di bala entri da subentrato quindi questo è quello che mi aspetto da questa partita e da qui e mi aspetto questa formazione ovviamente staremo a vedere ma credo che sia proprio questa qui la formazione che vedremo domani alla dacia arena ragazzi io chiudo quel video mi raccomando iscrivetevi al canale like e rimanete sempre aggiornati su tutti i video di fuori rosa tv al prossimo video ciao